Il progetto Territori Sicuri arriva nel comune di Chiusi della Verna, in questo momento ci troviamo nella frazione di Corsalone. Si tratta di tamponi rapidi a cui si può sottoporre tutta la popolazione gratuitamente e che vanno ad individuare il virus anche in soggetti asintomatici. Sono tamponi adigenici ma vengono processati con il metodo molecolare per cui la sensibilità e la specificità di questi tamponi è molto alta rispetto a quelli rapidi che danno il risultato subito. È una cosa da sfruttare che hanno messo a disposizione perché non la fare, tanto purtroppo è una cosa Covid c'è. Quanti cittadini hanno aderito? Hanno aderito 360 cittadini, 240 giù a Corsalone e 120 a Chiusi. Nel suo comune c'è una comunità, dentro un'altra comunità, che è quella dei frati della Verna. Hanno aderito anche loro? È importante anche lì perché sicuramente è una bella comunità e fino ad oggi non c'è stato nessuno positivo e mi auguro che si continui così fino a che non si esce da questa situazione. A dare una mano nell'effettuare i tamponi la macchina delle pubbliche assistenze, circa 10 le persone che servono per ogni unità mobile. Ci siamo per dare sempre una mano perché uscire da questa pandemia è proprio un impegno anche nostro. Io potrei essere un soggetto a rischio in quanto comunque ho avuto un intervento ai polmoni e un'altra malattia che è la pancreatite. Ha aderito soltanto il 20% della popolazione, quindi poco. Perché secondo lei? È un po' questo tabù come purtroppo sento dire sui vaccini, che la gente ha paura, non sa di preciso se farlo o non farlo. Io dico che se ci danno l'opportunità di fare un controllo, di essere sicuri, in casa mia l'abbiamo fatto tutti perché siamo una famiglia, siamo quattro, la mia mamma cinque, sopra c'è mio fratello, quindi siamo una piccola comunità che si fa tutti e quindi si sarà sicuramente più tranquilli in questi giorni.